Un'ordinanza di custodia cautelare eseguita alle prime luci dell'alba, brindisi da carabinieri e poliziani confronti di quattro persone ritenute responsabili di una violenta rapina che fu compiuta all'interno di una gioielleria del centro commerciale Le Colonne in pieno giorno il 3 dicembre del 2014. Il colpo fruttò 300 mila euro e fu realizzato con fucili a pompa e mazzuole da cantiere all'interno dell'ipermercato creando panico tra la gente che in quel momento si trovava a fare acquisti. La scena è stata interamente filmata dalle telecamere del centro commerciale la misura cautelare è stata disposta dal GIP Maurizio Saso a portare gli investigatori a individuare i quattro presunti responsabili della rapina sono state le tracce di DNA lasciate sui passamontagna oltre che sui frantumi delle vetrine della gioielleria presa d'assalto insieme alle intercettazioni telefoniche ambientali captate nel corso di altre indagini, una delle quali per omicidio. Gli arrestati sono tutti di Brindisi, si tratta di Cristian Ferrari, Angelo Sinisi, Francesco Colacci e Antonio Di Lena. L'inchiesta è stata condotta congiuntamente dalla scuola mobile di Brindisi e dei carabinieri coordinati dai PM Milto Stefano De Nozze e Daniela Chimienti. Dalle intercettazioni è emerso tra l'altro che la scelta dell'esercizio commerciale che si trova all'interno dell'ipermercato pieno di gente al momento dell'assalto era stata fatta dai presunti malfattori anche sulla base del fatto che non risultava che l'attività fosse protetta da qualcuna delle bande criminali locali.